Continuano senza sosta le ricognizioni aeree volute da Regione e Capitaneria di Porto per il monitoraggio di eventuali rifiuti tossici in terra dei fuochi. L'ultima in ordine di tempo a essere rilevata è stata quella del laghetto di Schitella dove si indaga nell'invaso artificiale vicino a Castelvolturno in provincia di Caserta. Dall'ultima ricognizione aerea della Guardia Costiera di Napoli sulla terra dei fuochi alla ricerca di rifiuti seppelliti dalla camorra nell'invaso sono emerse anomalie termiche e magnetiche segnali della possibile presenza di rifiuti pericolosi sversati abusivamente. La strumentazione dell'ATR42 ha segnalato la parte nord dell'invaso con il colore rosso vuol dire che probabilmente lì è stato sversato qualcosa. Le prime analisi però hanno escluso la presenza di materiali radioattivi come spiega il comandante della Capitaneria di Porto Antonio Basile. Le ricognizioni aeree stanno dando degli ottimi risultati nella misura in cui si tratta di andare a reperire degli indizi che poi imprescindibilmente prevedono anche delle ricognizioni sul terreno. Le cartografie che sono state restituite attraverso i voli già effettuati, siamo al terzo volo che è stato compiuto sulla nostra regione, hanno dato dei sintomi che adesso dovranno essere verificati sul territorio. Abbiamo cominciato con il lago di Ischitella, se così lo si può chiamare, però ci saranno tanti altri accertamenti che seguiranno e che interesseranno tutto il territorio regionale, soprattutto i bacini idrologici della nostra regione.